Migliaia e migliaia di articoli di Natale messi in vendita sugli scaffali senza che rispettassero le leggi sulla sicurezza dei prodotti. La Guardia di Finanza di Viareggio pochi giorni fa ha eseguito maxi sequestro per un valore complessivo di circa 40.000 euro. Due le attività finite nel mirino delle fiamme gialle, entrambe a Viareggio. La prima è una bancarella del mercato di piazza Cavour gestita da cinesi. Sul bancone circa 8.000 articoli pericolosi a prezzo molto basso, soprattutto giocattoli ma anche bigiotteria, decorazioni natalizie in totale violazione della normativa di codice del consumo e sicurezza. Tutto è stato sequestrato e il titolare rischia una sanzione fino a 35.000 euro. I giocattoli chiaramente finiscono nelle mani dei nostri figli e i giocattoli che vengono venduti senza certificazioni non vengono sottoposti ad una filiera di controlli previsti dalla normativa e quindi sono potenzialmente molto molto pericolosi per la salute. Il secondo caso invece riguarda un noto negozio Viareggio di articoli per la casa gestito da italiani. Migliaia di prodotti di addobbi natalizi e decorazioni per alberi, statue di resine e metallo, nessuna informazione sui materiali, nessuna traccia di certificati di sicurezza. Addirittura la maggior parte dei pezzi era stata rietichettata con il logo del negozio. Un espediente usato per far credere al cliente di essere di fronte a prodotti artigianali dunque di maggiore qualità. Infatti alcune statuette natalizie venivano addirittura vendute a 500 oppure 800 euro. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a fornitori e a venditori ufficiali di prodotti perché i prodotti che vengono venduti fuori da questi canali sono potenzialmente pericolosi, a volte molto pericolosi per la salute dei clienti.